Per Luca Salvadori Anche se non ti conoscevo personalmente, il destino ha miracolosamente collegato le nostre strade. Qui, sul triangolo di Froburg, ho catturato forse gli ultimi video della tua vita troppo breve. Questo ha creato un legame invisibile che mi connette a te, anche se non ci siamo mai incontrati prima. Ho realizzato questo video finale in tua memoria, per te e per tutti coloro che ti amavano e ti conoscevano meglio di me. Nessuno dovrebbe essere costretto ad andarsene così presto. Possa tu riposare in pace. Possa tu riposare in pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.